No, non è freddo. Ma perché c'ho una padella sul culo? L'ho vista adesso su questo gilla. La cosa divertente è che loro ora vedranno Thrill of the Hunt facendo quel totem lì, che è di fianco al gen ed è uno spreco di tempo per loro totale. È un one shot! One shot! E si vola! Non sono più che inventarsi. In realtà non era brutta l'idea di per sé. Però... One shot! E si vola! In realtà non è così brutta l'idea. Poi comunque l'idea è della commione, c'è anche da dire. L'avevano copiata. Perché one shot è la Don Iri che ho. Sì, è la Don Iri che è one shot. Se prendo più di 12 metri con lo sparo, one shot. Sono exposed. In realtà non è così male l'idea della 2v8, è solo che è stata fatta male. 3, 2, 1... Quasi. Eh? Ah, mi sa che ho colpito con la sua ganch. Sono sad. Molto sad. Non ho caricato. C'è una moschina che mi sta volando attorno e mi sta facendo un po' tiltare. Eh, prendiamoci il ferimento. Ficato assurdo da sto killare. Molto figo, sì. Come idea ci sta per delle custom per più... Sì, se avessero abilitato le custom sarebbe stato figa l'idea. Oh, come ti permetti? Guarda, mi allontano pure. Qua, manca... Ti stai lasciando andare, eh? Signor Darius. Sei proprio un Darius main di League of Legends, guarda. Non è one shot, sfortunatamente. Sono entrata in casa per un pelo. Ah, proprio afghan, vabbè. Come la Vecna? Intanto è un maschio. Eh, Vecna. Come il Vecna. Credo. Non so come si può dire. Vabbè. Molto divertente, a me piace. Attenzione, il Master Scef, il Pro Code che è lui. Guarda che io sono molto bravo negli FPS. Considera che... I giochi in cui accello sono FPS, MOBA. Strategici. Questo è il cuore dritto. Ah, non mi ha pagato il cazzo. RTS. FPS, quindi. Vedo il dubbio, Maza, infatti, si vede come predictare mira. Grazie. Sempre stato amante degli FPS quando ero piccolo, in generale. Sempre adorati. È meglio che daremo, sì. Ci sto giocando in questo periodo, tra l'altro. Si dice, con il coltello. Pause, corvo. Ma se la snake ma che come va oggi? Il clima attivo sembra di non averlo da quanto era caldo. Minchia, no. Sì, mi piaceremo. Manco il bot scriptato. Mi piaceremo. Non è andato a fare il save del bot. È invece andato a quanto pare. Tutto all'inexpected, ma Ok Vabbè, finiamo il suo game a questo punto No, non l'ho ancora fatta la classifica Ci sto giocando for fun Sono normal Una volta era meglio Rainbow, era un po' luminato Perché dici? Il bot fa sì sì Adesso tanto la bot la trova lui È letteralmente un 50-50 Praticamente ci muoviamo alla stessa velocità Ho sciocato io Che hai mangiato stasera? Proviamo a indovinare Vediamo se indovini Fino all'inizio pian piano va a rovinarsi Eh, ma perché cosa? Cioè, cos'è stato che l'ha rovinato? Che dici Che è cambiato tanto Palino al formaggio No, un cazzo Non ho mangiato totalmente niente Per le meccaniche e gli operatori Perché sono tipo operatori broken Dici tipo L'unica cosa che un po' non mi fa impazzire di Del gioco è Come si dice Lo spawn kill Anche i cheat Dove sono messo Non mi è sembrato di trovarne così tanti Oddio In realtà Non ho mai assunto Che nessuno cheat Asseghe Da un errore strano Per entrare su DVD Una cosa sul negozio Invece Riperto la giovanza Sono da PS Non saprei dirti Onestamente Prova a cercare L'errore che ti dà Su Google Magari ti aiuto Io ho mangiato pizza Viozza e patatine Ma che è forte Con due fette di torta Una crema bianca E al quarto due Minchia Cioè Mi vuole far venire fame Cioè ce l'ho già Ce l'ho Un'altra per brecciare C'era termite e ibana E anche montagna Ora anche montagna Breccia Ah sì Perché hanno messo Il medium breach Hai ragione Sì mi ricordo Ho capito di cosa fare Ci sto effettivamente Quello è abbastanza fastidio Sì dopo volentieri Per esempio Se tu Che bello Rogue Cheater Ma cos'è Rogue Cheater Se tu vuoi giocare Vecna Ma vedi per esempio I miei perk I miei perk Sono uno dell'artista Che è quello sopra Quello a sinistra Edlart No quello sopra è del Cenobita Quello a sinistra è dell'artista Quello sotto è del Cenobita E così E così via E così via In modo tale Che posso farmi Una build Con il killer Che voglio Con determinati Con diversi perk Guardate Stavo per aprire il lock Giuro che stavo per aprirlo Quell'lock Ero intenzionato a farlo Però poi ho detto Nah Mi avrebbe fatto Una lock CJ Tra l'altro Se l'avessi fatto Rogue Company Ma Rogue Company Non era chiuso? Stava chiudendo Rogue Company Mi pare Scusami Sbaglio La palla è passata Attraverso Lara E non l'ha fregata Un cazzo Non è chiuso La mano è molto forte Vabbè Tanelino sul bot Non si lamenterà È ancora aperto Ma hanno smesso Di svilupparlo Beh allora volendo Ci può anche stare Che si sia riempito Di cheater Se hanno smesso Di aggiornarlo Con gli anti-cheater Eccetera Perfetto Senta che senza libro Io gli scheletri Sono veramente Insulsi Sono insulsi Ma se li riesci ad utilizzare Sono comunque forti Anche se molto difficili Non sono indodgiabili Sono comunque sempre Doggiabili Però Per il classico Di sicurezza Forte Prima di essere Uncino No Questo Vecna Non lo voglio Alt F4 Sì 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 Non sono riuscito a betarlo Spero di betarlo anche qua Non ci sono riuscito Come se c'è nel parco a destra Intervento corrotto devi portare La vomitina sarebbe la malattia Al primo prestigio Ma questo c'è a quick and quite Non riesco a capire giuro Sì no sono troppo pochi Il problema è quello Diciamo che Vecna Guadagna un sacco di value Nelle mappe che hanno un po' di rialzini Con quelli di guadagna è veramente tantissimo value Metti quello col cono verde Lo so però comunque sono tre Diventano non lo so non mi piace Cosa sicuramente in via ufficiosa Oppure no Up sicuramente DS allora Dai cazzo di auto aim raga Tanto l'exaust Arcane secret Arcane di league of legend Hai visto tanto arcane di league of legend Vecna mi stai dicendo? Vabbè si slug Vabbè si slug Che senso non l'ho preso? Io non lo trovo rotto vecchio Lo trovo molto forte Quello è poco ma sicuro Ok Eh è geometria impossibile raga Non è male questa Comunque la fenga A lupare Ed ecco la geometria La fenga è molto brava a lupare In realtà dovrei rompere qua Ed ecco Una bot man Che fa mai bot su twitch Certo questo lupo è anche Completamente odioso Per me E meno male che l'ha nerfato Perché hanno chiuso sta porta Non so stiamo a lui Manipulate Manipulate Uh bravo Sto sbagliando molto questo Sto sbagliando un po' i poteri C'ho da dire Questo è un hit Cosa fa quella specie di bolla viola? Disattiva gli oggetti magici Che ogni serve può raccogliere Degli oggetti magici In pratica E Quell'add-on che ho Gli rende anche Exa 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 Impossibile Impossibile Non riesco a fare sto cazzo di lupo Con sto killer Porco due E spotta anche su di lupo Esatto Non riesco a fare sto cazzo di lupo Ragazzi l'odio Mende sto building Molto brava questa Assolutamente Il problema è un'altra Dei tre che sono rimasti Gli altri due Renato e Fang mi sembrano abbastanza forti Be my eyes Guarda il disco di parlare tranquillamente sto game adesso Certo Sicuramente ads o the dart Nice Nice Dov'ecappare prima lui Nel caso di DS Che sicuramente hanno E' una sfortuna che la devo slaggare Eh niente A vuoto però vabbè Se fosse camminato dritto avrei preso Minchia body perfetto let's fucking go Ok l'ha tirato su Però adesso la personata che lo tiro giù sono sicuro che non ha più di S Questo è l'importante Stanno resettando Si è alzato mentre stava sky Sì è per questo che gliel'ho bloccato in pratica C'è quel gen che è molto avanti Dovevo tenermeli Ok non è servito per fortuna Prendiamo lui allo scourge Che dovrebbe essere L'ultimo che mi manca Infatti L'unico problema è che c'è ancora il bot Ed è effettivamente il problema più grande che ho Perfetto Che figo Vecna Molto figo Cenobiter Dei totem Davvero ma what the f- No vabbè il gioco è buggato però raga c'è Adesso va bene tutto ma Questo era un hit Gli è passato attraverso Non è che Non l'ho letta ancora Però leggo totem Giocato di quella speranza Retribution rovina Posso dirci una cosa però Almeno mettimi il pentimento Ti scongioro al posto di Retribution Sono tutti dead nuke comunque Paraparentesi Hit palesemente scammato Massimato totalmente Eh adesso che non ha più il pallet Non può più fare il ganassa Dovevo giocare Non lo per fargli droppare prima il pallet Non si aspettava adesso Ma tu non hai modi per fare save action Ah prendiamoci l'assicurazione sulle due kill Poi cerco di prendermi anche la terza E se riesco la quarta Ciao fuori Ciao fuori Buonasera caro Come stai Pentimento sia Andai Panculo Sono già alla porta Scommetto Oppure no C'è questo qua Dai Dai vado a parare 3k C'è comunque tutto Cracciare Quindi comunque Ho preso distanza CG Ci ho provato Black nap con Peter Con Pined Non lo so Stai Onestamente Un iberdo di un po' di killer Se Secondo me Vecna è più forte di Pined In realtà Però è anche più difficile da utilizzare Boh Guardate è crashata No ma credo che si è crashata Che l'ho detto Non è che ha quittato lei Che cazzo fa il bot raga Bot Vabbè a parte che stai scrittando palesemente Raga È uscito dalla porta Ma perché Ma Ma dove va il bot raga Ma perché Ma che cazzo Cazzo gli è preso Raga il bot Era fuori Vabbè Vabbè Il bot Attore pagato palese Il bot botteggia Giuro non l'ho capita Sono confuso Ed ecco che arriva Botman Che spamma Il bot su Twitch Molto bravi questi Comunque Molto bravi questi Comunque Grazie a tutti.